Eccoci, buonasera a tutti per la rubrica L'Avvocato del Diavolo, oggi del nostro sito YouTube, canale YouTube Milanello, abbiamo uno dei più grandi opinionisti televisivi contemporanei, di micchia, abbiamo avuto due o tre mesi, poi lo monto, abbiamo avuto delle grandi difficoltà da averlo perché è richiestissimo, c'erano probabilmente tutte le televisioni nazionali e internazionali che ti volevano e a lui chiediamo un parere sul gol annullato a Ebraimovic, se era o meno fallo di mano, tu sai che ieri è stato fatto vedere anche da un canale del Milan, Milan TV, che ha assolutamente colpito la palla di petto, ma chiediamo a un soggetto assolutamente obiettivo se per lui era da annullare un gol del genere. Su questo mio pensiero sono obliquo, quindi sopra le parti. Sopra le super partes, quindi? Beh, devo dire la verità che a me questo episodio mi ha molto colpito e tra l'altro l'ho analizzato attentamente perché a casa l'ho guardato più e più volte alla Mugheola. Era dai tempi di Maradona che non si vedeva un gol così. Dico di mano? Perché ha fatto il gol di mano o perché è stato bellissimo tecnicamente? No, quello di mano. Però al di là della mano, ragazzi, ma vogliamo mettere in dubbio, dico io, vogliamo mettere in dubbio il fatto che Ebraimovic abbia delle qualità tecniche superiore alla media? No, dico una domanda, ma metterle in dubbio. Ma secondo te, obiettivamente, era da annullare o no quel gol? Quanto deve durare sto domandolo? No, ma rispondi alla domanda, devi essere obiettivo come sei sempre stato. Io cerco di essere assolutamente obliquo e sopra le parti, assolutamente ateo nel mio giudizio e devo dire che io difficilmente, difficilmente l'avrei annullato. Ma evidentemente non faccio l'arbitro, peccato. D'altronde non sei della Juve. Volevo dirti anche un'altra cosa, tra l'altro è stato toccato il punto che lui ha perso. Poi lo monto, lo monto io. È troppo lungo. No, è stato toccato il punto che lui non aveva la disponibilità del pallone, ce l'aveva il giocatore della Fiorentina, Pulgar, che poi invece in realtà l'ha perso, che Ibrahimovic è talmente lungo, gli ha rubato la palla. Quindi anche per quel motivo non andrà nulla. Seconda domanda. Bravo, bravo, tra l'altro questo è un grosso problema. Pensate che noi facciamo due battute, però poi diciamo anche le cose. Certo, certo, questo è un grosso problema, perché se Ibrahimovic è lungo, ragazzi, mica è colpa sua. Esatto. C'è chi è corto e chi è lungo. Esatto, se c'è Rissigne magari non avrebbe preso, c'è Ibrahimovic. No, non lo so, non perché qualità tecnica di Rissigne. Altra cosa, l'annullamento, anzi scusami, il rigore dato al VAR per il fallo presunto di Romagnoli. Maldini sai che ha detto, non ho mai visto la mia carriera, un rigore dato così. Veramente anch'io sono d'accordo, scandaloso quello che ho visto. E lo dice Mimmo Pesce che non è tifoso il Milan e che non ha avuto in passato neanche parole tenere per il Milan. Assolutamente, assolutamente. Se ti avessero dato il rigore contro così cosa avresti fatto? Ah, mi sarei arrabbiato tantissimo. Detto questo, amici milanisti, io mica faccio l'arbitro. Purtroppo non fai l'arbitro. Ragazzi, io do il mio giudizio, ma mica faccio l'arbitro. Esatto, adesso l'ultima, poi la mondo, non mi baciare più per favore, mi hai guardato con un occhio. Un po' obbligo. Un po' obbligo. Stasera c'è, vediamo dietro, c'è il Napoli che gioca, ecco lo inquadriamo, il Napoli che gioca con Barcellona. Un pronostichino da parte di Mimmo Professor Pesce? Io vorrei assolutamente uscire dalla Champions League, quindi mi auguro che sia un risultato rotondo a favore dei Keteleni. Tipo 2-0? Ma anche 4-0, voglio uscire. Vuoi uscire, vuoi uscire perché vuoi andare in Champions. Esatto. Allora, segnatevelo e scommettete 4-0 di Mimmo Pesce per il Barcellona e salutiamo uno dei più grandi personaggi televisivi contemporanei di Micchia. Di Micchia, devi dire, come sempre, io chiudo i miei video con, io dico, Forza Milan, tu devi dire sempre. Tanto sei un tifoso, voglio dire, obbligo, quindi Forza Milan. Sempre. Bravo.